Ben ritrovati a RMK Notizie. Il ritorno alla normalità dell'ospedale di Sciacca, ancora impantanato nell'emergenza Covid, è in ordine di tempo l'ultimo dei problemi al centro delle richieste del Comitato Civico per la Sanità di Sciacca, che stamattina ha organizzato il primo sitino di protesta all'ingresso del Giovanni Paolo II. Il servizio è di Massimo D'Antoni. Si è svolto stamattina all'ingresso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca l'annunciata manifestazione promossa dal Comitato Civico per la Sanità denominata Riappropriamoci del nostro ospedale. Sullo sfondo le richieste, che sono oggetto di rivendicazione ormai da diverso tempo e alle quali da oggi si è giunta quella relativa alla necessità che l'ospedale torni a derogare servizi sospesi nell'ambito dell'emergenza coronavirus, nell'ambito di un ritorno alla normalità che si sta rivelando più difficile del previsto. Noi ormai non troviamo altra soluzione se non quella di venire qua periodicamente con una frequenza settimanale, bisettimanale, attendendo che finalmente si ritorne alla normalità affrontando peraltro i temi che già esistevano. Il Covid non è stato un momento per accelerare, portare avanti e chiudere tutti i procedimenti di cui si parlava più o meno in maniera concreta. Il Covid ha creato una situazione di malessere. Il numero dei pazienti presenti all'ospedale credo che sia l'elemento più sintomatico perché ci sono pochi ricoveri. Noi ci poniamo il problema e ciascuno di noi lo fa anche come soggetto direttamente interessato. Se la gente evita di venire all'ospedale di Sciacca perché ha paura, noi non possiamo non attenderci una risposta da parte di chi svolge un ruolo di responsabilità. Bisogna assolutamente superare le diatribe che esistono e consentire a chi certamente esiste all'interno del sistema sanità di superare tutti gli ostacoli. Noi intendiamo svolgere un ruolo di fencheggiamento. Tutti gli ostacoli a partire anche se non soprattutto da quelli di natura politica. La gente percepisce l'ospedale come insicuro e questo è un grave problema, c'è stato un crollo dei ricoveri, ha detto Franco Giordano, coordinatore del comitato. L'ospedale si è svuotato degli ammalati che sono stati cacciati in un certo senso presso strutture e attraverso circuiti su cui nessuno si interroga. Tutti i cronici, tutti gli oncologici, le persone affette da malattie infiammatorie croniche intestinali, tutti coloro che hanno bisogno di prestazioni ambulatoriali, di interventi in dei hospital, dove vanno? Dove sono andati? A quale prezzo? Questa domanda sembra non interessare quasi a nessuno. Allora, finalmente sappiamo che forse c'è qualche movimento, qualche provvedimento che tende a ripristinare una qualche funzionalità, ma finché queste cose non diventeranno norma, cioè non ritorneremo alla normalità di prima, rimarranno questi semplici adempimenti burocratici. Si continua a chiedere lo sblocco dei concorsi per i medici, le attese e assunzioni per aumentare il personale in corsia, la ripartenza dei servizi ambulatoriali ancora fermi, uno sfoltimento deciso delle liste d'attesa per superare il rischio che i pazienti possano rivolgersi ai privati. Fenomeno questo che si sta diffondendo sempre di più a macchia d'olio. Sullo sfondo della questione però c'è anche la richiesta che la Regione nomini un nuovo direttore generale dell'ASP. Il comitato ritiene infatti che la questione non possa essere ancora nelle mani di un facente funzioni, come di fatto attualmente il dottore Alessandro Mazzara. A monte di tutto c'è non solo la pochezza di una certa politica che governa le cose della sanità, ma c'è anche il disprezzo per norme elementari che i contratti, che le norme che regolano il funzionamento delle istituzioni sanitarie prevedono. Noi non intendiamo accettare la logica così un po' infantile delle carte. Noi abbiamo scritto, noi abbiamo programmato, noi stiamo qui e aspettiamo che l'ospedale di Sciacca ritorne a funzionare. E fino a quando rimaneremo qui, fino a quando non funzionerà l'ospedale di Sciacca. E all'ingresso dell'ospedale stamattina a rappresentare l'amministrazione comunale di Sciacca è stato l'assessore Roberto Locicero, intervenuto per impegni del sindaco Valenti. C'erano anche due consiglieri comunali, Teresa Bilello e Simone Di Paola. Abbiamo raccolto i loro commenti. Ascoltiamoli. Assessore Locicero, il comune di Sciacca a fianco del comitato civico per la sanità in questa battaglia? Assolutamente. Voi conoscete qual è la determinazione, la volontà e la forza che il nostro sindaco ha messo, soprattutto in un periodo molto pericoloso e molto pesante, che è il periodo Covid. Quanto il nostro sindaco si è battuto per la sicurezza del nostro ospedale e per tutto quello che riguarda i servizi alla cittadinanza. Io sono qui in sostituzione del nostro sindaco che è impegnatissimo per altre vicende, anche se spinose, e voglio ribadire l'assoluta vicinanza anche al comitato sanità, che fa davvero un lavoro eccellente e a volte si sostituisce alla volontà della città perché davvero sono preparati e danno davvero un grande contributo alla causa. Questa battaglia ci dice che non ci sono forze politiche a favore o contro, ma c'è l'unità della città di Sciacca? Assolutamente sì. Era importantissimo essere qui stamattina, lo avevo già preannunciato perché questa è una battaglia che va al di là di qualsiasi ideologia politica e al di là di qualsiasi colore politico. La battaglia va fatta per ridare dignità una volta per tutto al nostro ospedale. Ecco, un ospedale per il quale ancora ci si lamenta di una gestione sanitaria che è ancora agrigentocentrica, malgrado i due ospedali di Sciacca ed Agrigento siano giuridicamente, abbiano la stessa qualificazione. Esattamente, è proprio questo per cui noi ci battiamo perché è arrivato il momento che anche i cittadini di Sciacca, anche i cittadini dell'Interland che soffruiscono dei servizi dell'ospedale del Giovanni Paolo II, abbiano gli stessi servizi di cui soffruiscono i cittadini di Agrigento. È immaginabile che attorno all'ospedale Sciacca possa ritrovare il senso di comunità? Ma è sempre stato così che intorno alle grandi battaglie di progresso sociale questa città ha ritrovato il piacere di stare insieme, di essere comunità, di fare battaglie politiche, battaglie di rilievo sociale insieme. Sull'ospedale è già accaduto in più occasioni e io mi auguro che possa accadere nuovamente perché questo nostro ospedale non è solo un presidio di eccellenza sanitaria e il mio ringraziamento va sempre a tutto il personale medico, infermieristico, paramedico, ai volontari che rendono possibile un'assistenza di livello eccellente ai nostri pazienti. Ma questo ospedale è anche un simbolo, è il simbolo del riscatto sociale di una comunità che rifiuta l'idea di essere periferia della periferia. Noi vogliamo essere al centro dei processi di sviluppo sociale, economico, culturale di un intero territorio e la difesa di questo ospedale è un simbolo di questa volontà, che è la volontà di un'intera comunità. E in quanto tale noi non potevamo che essere qui a testimoniare la nostra vicinanza e anche il nostro ringraziamento al Comitato Sanità che sta facendo uno straordinario lavoro di cittadinanza attiva e che in quanto tale le istituzioni hanno il dovere di sostenere e di salvaguardare come un patrimonio prezioso. E in coda al nostro telegiornale uno speciale RMK Notizie dedicato al sit-in davanti all'ospedale di Sciacca. Un'intesa politico-elettorale per il 2022 tra Movimento 5 Stelle e Mizzica a vedere bene una prospettiva del genere è oggi al nostro telegiornale il consigliere comunale pentastellato Alessandro Curreri il quale commenta la decisione di Matteo Mangiacavallo di lasciare il movimento e invita la sua collega d'aula Teresa Bilello, comunque rimasta tra i grillini a estraniarsi dal gruppo politico che fa capo al deputato regionale anche con in prospettiva la possibilità di candidarsi a sindaco. Sentiamo ancora Massimo D'Antoni. È più probabile un'intesa con Mizzica alle prossime elezioni o col PD? Con Mizzica? Io avrei una grossa difficoltà delle armi sia a destra che a sinistra. Certamente c'era un po' decida Alessandro Curreri, io sono stato sempre contro i personalismi ma con questo movimento mi trovo molto bene. Con l'associazione Mizzica c'è condivisione di idee e progettualità. Alle prossime amministrative vedrei bene un'alleanza tra loro e noi del Movimento 5 Stelle. Lo ha dichiarato il nostro telegiornale Alessandro Curreri, consigliere comunale pentastellato esponente di quel Movimento 5 Stelle a Sciacca, reduce dalla diaspora con la componente di Matteo Mangiacavallo che ha lasciato i grillini aderendo ad un'altra forza politica. Avrete pressioni perché se l'intesa a livello nazionale è il Movimento 5 Stelle e il PD qualcuno tenterà di farvi fare l'accordo col PD anche qui. Lei lo sa che arriveranno poi le telefonate, no? Le telefonate arrivano sempre. Le telefonate al consigliere comunale oppure in questo caso comunque in un momento di rinascita del Movimento Saccenza, cosa io in cui credo fermamente. Io sono rimasto per difenderlo, c'è chi voleva farmi cadere e invece è venuto a sbattere contro. Non è finita qui perché diciamo che ogni giorno un rappresentante del Movimento deve difendere il Movimento e i suoi valori. Alessandro Curreri però ritiene che ancorché sia rimasta nel Movimento, la sua collega di Sala Falcone e Borsellino, Teresa Bilello, di fatto sia ancora parte del gruppo politico di Matteo Mangiacavallo, dovrebbe fare una scelta e in quel caso secondo me potrebbe anche essere un'ottima candidata a sindaco. Il Movimento 5 Stelle è che fase sia aperta anche a livello locale perché sappiamo insomma che le due anime sono state piuttosto in conflitto nel corso del tempo. Adesso cosa pensa lei? Vi siete liberati di un problema rispetto al fatto che Mangiacavallo è passato con una forza un po' più fiancheggiatrice del governo? Ho subito chiamato Teresa Bilello per proporre un riavvicinamento forte perché io sono convinto che se Teresa Bilello si stacca totalmente dal gruppo che sostiene Mangiacavallo, io e il Consiglio di Bilello potremmo spaccare il mondo e sinceramente per me potrebbe essere anche un ottimo candidato a sindaco Teresa Bilello, però deve avvenire questo, deve avvenire il totale di stacco. E non c'è stato al momento che lei sappia? Diciamo che ancora c'è bisogno di chiarimento, però questo non è escluso, l'unica cosa che vedo appiattita oggi è la credibilità politica dell'onorevole Mangiacavallo, perché il Movimento 5 Stelle ha delle battaglie a portare avanti, come mi diceva spesso l'onorevole Mangiacavallo, il Movimento 5 Stelle è stato votato per andare a fare opposizione, ricordiamoci che i voti non sono voti del singolo. Anche il senatore Marinello è rimasto pure nel Movimento 5 Stelle. Ad esempio, io mi sono trovato comunque a parlare anche con il senatore Marinello, mi ha presentato i suoi collaboratori e ho fatto capire che sono disposto a lavorare su diversi temi come quello della Propiter, l'agenzia Propiter, che deve sfruttare i finanziamenti del patto territoriale terresitane attraverso il decreto crescita. Ho fatto subito capire di che pasta sono fatto, sono fatto per fare proposte e seguirle e realizzarle. Lei in questi anni da consigliere comunale ha cercato di qualificare la sua azione non come un esponente dell'opposizione, ma se ci fosse stato bisogno anche a livello di proposta, anche a livello di sostegno delle iniziative condivise, anche se queste provenivano dall'amministrazione. Io sono stato invitato alle dimissioni e a fare chiarezza in alcune sedute in cui mi rifiutavo di far saltare la seduta soltanto per chi lo decideva il centrodestra e non riuscivo a capire perché il Movimento 5 Stelle dovesse seguire il centrodestra e le sue iniziative per far crollare le sedute, per far crollare il numero legale. È utile illuminare il Parco delle Terme con un finanziamento di 110 mila euro? È utile. E volevano che io uscissi dall'aula. Perché devo uscire dall'aula se è una cosa utile? La mia posizione non sarebbe cambiata di una virgola, e l'ho sempre detto, con un sindaco di centrodestra. Ecco, qualcuno tra i promotori della famosa mozione di sfiducia ha un po' l'ha etichettata come colui che prendeva tempo, che non avrebbe mai votato la mozione di sfiducia. Lei per motivi di lavoro, peraltro, si trovava fuori sciacca in quel periodo. Io sono sempre convinto che la mozione di sfiducia era sgonfio. Tra l'altro è stata proposta da un gruppo che adesso nel momento 5 Stelle non c'è più. L'invaluazione di sfiducia poteva avere un risultato, che era quello di rendere forte qualcun altro che stava uscendo. Però avevo questa impressione, avevo l'impressione che quando ero presente si rallentava, quando partivo si accelerava, per fare capire che il problema ero io fuori. Era necessario intervenire, così il sindaco di Menfi, Marilena Mauceri, in relazione all'ordinanza con la quale vieta gli intrattenimenti con DJ e musica dal vivo che lo scorso fine settimana hanno generato assembramenti nella località balneare di Portopalo. Sentiamo Maria Genuardi. Una ordinanza integrativa di quella che già nello scorso mese di giugno aveva disciplinato la fruizione delle spiagge in quest'estate 2020 nella quale è necessario rispettare le norme anticontagio. Il sindaco di Menfi, Marilena Mauceri, ha ritenuto necessario intervenire dopo quanto è successo sabato scorso nella località balneare di Portopalo, presa d'assalto da tantissimi giovani che hanno creato assembramenti oltre a problemi igienico-sanitari legati all'abbandono indiscriminato di rifiuti lungo tutto il litorale. L'ordinanza firmata ieri vieta spettacoli e intrattenimento musicale. I locali pubblici possono soltanto ricorrere alla filodiffusione, ossia alla musica di sottofondo, per aglietare i clienti. In qualità di primo cittadino e di essere garante della salute della comunità, per gli episodi del fine settimana scossa ho ritenuto opportuno, insieme all'aggiunta in tutta l'intera amministrazione, dare queste misure rispettive fino a 31 luglio, in linea con l'ultima ordinanza urgente e contingibile per l'appunto. Perché l'organizzare gli intrattenimenti con i DJ purtroppo ha creato un arrivo, perché si fa pubblicità dai social, perché giustamente si tiene ai ragazzi giovani, e per carità i giovani hanno diritto al divertimento, ma ricordiamoci che siamo in una fase ancora di emergenza. E tutto ciò che ci compete come primo cittadino, come amministratori, è basitare e fondamentale mantenere le misure di sicurezza. Come abbiamo abbondantemente e in maniera esplicita informato i gestori e tutti coloro che gravitano sul litorale della fascia costiera. L'episodio poco opportuno, a nostro avviso, di sabato scorso, la grande affluenza dei giovani, anche dei paesi limitosi, ahimè ha dato disposizione da parte dell'iniziazione di queste misure ulteriori di contenimento. Si tratta fino al 31 luglio, ho dato appello, ho fatto appello all'alto senso di responsabilità di ognuno di noi, dei nostri giovani soprattutto, e anche alle famiglie e ai genitori. Dobbiamo fare in modo che i ragazzi entrano nell'ottica che siamo in una fase dove è importante tutelare noi stessi e tutelare gli altri. Sicuramente ospitiamo a periodi diversi, a periodi dove non abbiamo più questa emergenza Covid, ma in questo momento è necessario più che mai dare garanzia di una fruizione di un mare sicuro e di un intrattenimento serale altrettanto sicuro, nel massimo rispetto delle norme e delle misure, dove per l'appunto siamo stati chiamati in causa a rispettare tutta la comunità, l'intera comunità di Nonsi. Sindaco, ritiene che oltre all'ordinanza sia necessario anche predisporre controlli ancora più accurati nel fine settimana? È chiaro che io, per arrivare anche a questo, mi sono chiaramente confrontato con le forze dell'ordine. Ci sarà più che mai, ma già è da tempo che si fa, ma a maggior ragione, dobbiamo dare un segnale di rispetto all'ordine pubblico. Quindi ho massima collaborazione delle forze dell'ordine, sia appunto della polizia locale, dei carabinieri della guardia costiera, perché è importante in questa fase, è cruciale più che mai, osservare queste misure di contenimento e di sicurezza. A tutela di tutti, chiaramente. Una storia da film dell'orrore emerge da Porto Empedocle e avrebbe ripetutamente violentato e torturato la compagna minorenne e incinta. Chiuse le indagini a carico di un 27enne che si appresta ad essere rinviato a giudizio con le accuse di sequestro di persone e maltrattamenti. Raccapricciante l'elenco delle violenze fisiche e psicologiche che avrebbe subito. Il servizio è di Calogero Parlapiano. Avrebbe sequestrato, violentato e torturato la compagna minorenne, che era anche incinta. È il set di una sorta di film dell'orrore, quello che emergerebbe a Porto Empedocle dopo quattro anni di indagini sviluppate dalle forze dell'ordine. A finire nei guai un 27enne, a cui è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto ufficiale che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, i drammatici fatti sarebbero avvenuti tra marzo 2015 e gennaio 2016, allora quando la ragazza, oggi 22enne, era minorenne. La giovane sarebbe stata ripetutamente costretta ad avere rapporti sessuali completi anche durante la gravidanza, all'interno della camera da letto dove sarebbe stata segregata. La ragazzina, all'epoca dei fatti, sarebbe stata chiusa in casa, frustata con dei cavi elettrici e costretta a raccogliere da terra con la bocca dei mozziconi di sigaretta. In una circostanza le sarebbero stati cuciti addirittura i genitali. Ed è lunghissimo l'elenco delle violenze fisiche e psicologiche che avrebbe subito nel corso di quei 18 mesi. Un elenco raccapricciante che sarebbe stato frutto di una violenza cieca e deliberata. Schiaffi, morsi, pugni, colpi di forbici al volto. Una volta la guzzino sarebbe rimasto seduto sulla pancia della giovane convivente incinta. Nel marzo 2015 la donna sarebbe stata colpita con una bottiglia di vetro sulla nuca, poi sequestrata all'interno della camera da letto, chiusa a chiave, senza poter uscire e senza poter vedere la luce, essendo che la finestra sarebbe stata tappata con un piumone. Se la minorenne reagiva, sarebbero ripresi i pestaggi, le bruciature delle sigarette sul suo corpo, gli sputi ed altro che, messo nero su bianco sugli atti delle indagini, preferiamo non riportare. Violenze indicibili, torture, umiliazioni andate avanti per un anno e mezzo. Poi finalmente le denunce e le conseguenti indagini all'interno di un quadro sociale di degrado e solitudine. Il 27enne di Portempedocle rischia adesso il processo e, se i fatti dovessero essere confermati, una pesante condanna per le accuse di maltrattamenti, violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni aggravate. C'erano anche due squadre dell'Associazione Vigili del Fuoco in Congedo di Sciacca la notte scorsa a Palermo per collaborare alle operazioni di soccorso coordinate dalla Protezione Civile e Regionale dopo la bomba d'acqua che ieri pomeriggio si è abbattuta su Palermo. Fortissimo nubifraggio che ha messo in ginocchio la città con decine di auto travolte dalla piena e intrappolate nei sottopassaggi della circonvallazione. Oltre 300 gli interventi dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di alcune palazzine e per il primo soccorso agli edifici allagati con numerose squadre impegnate e la necessità del sopporto di ulteriori volontari. Discariche di rifiuti nelle periferie. Oggi la segnalazione dei cittadini con le foto che vi mostriamo interessa la contrada Raganella dove negli anni non si contano più le bonifiche effettuate bonifiche vanificate puntualmente dal ritorno degli incivili che in quella zona lontana dal passaggio delle automobili vanno a scaricare ogni genere di rifiuto e di materiale zona quella dove un tempo erano collocati cassonetti di prossimità rimossi, la gente però è rimasta alla pessima abitudine di portare lì la spazzatura. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e i residenti e gli agricoltori della zona chiedono che oltre alla rimozione della spazzatura si provveda ad attuare un sistema di vigilanza e controlli che diano decoro alla contrada trasformata negli anni nella discarica della città. Saranno consegnati a giorni i lavori di pulizia dell'alveo del fiume Verdura sia quelli di competenza del genio civile sia quelli dell'otto di competenza della protezione civile tutte le autorizzazioni sono state definite si attende solo la firma del decreto da parte dell'assessore regionale Cordaro ad annunciarlo al nostro telegiornale è il presidente della commissione territorio ambiente dell'Arse Giussi Savarino Ascoltiamola Superato definitivamente il cortocircuito burocratico tra genio e protezione civile un ostacolo di non poco conto che di fatto ha ritardato l'avvio dei tanto attesi lavori di pulizia dell'alveo del fiume Verdura considerato che il genio civile di Agrigento era pronto da tempo ad avviare l'intervento nei lotti di sua competenza ma ha dovuto attendere che la protezione civile definisse le procedure per il famoso sesto lotto dei lavori determinante è stata una riunione di alcuni giorni fa in commissione territorio ambiente dell'Arse convocata dal presidente Giussi Savarino è proprio la parlamentare regionale agrigentina oggi al nostro telegiornale ad annunciare che tutte le autorizzazioni sono state definite e che a breve si procederà con la consegna dei lavori che in ogni caso saranno realizzati prima dell'inizio della stagione delle piogge abbiamo seguito fin dall'inizio questo tema perché con il presidente Musumeci siamo venuti quando c'è stata l'alluvione e abbiamo raccolto la richiesta dei vari sindaci sulla pulizia dei fiumi e sul fiume Verdura il lavoro era particolarmente impegnativo perché ha comportato un progetto che è stato fatto in tempi record per questo li ringrazio dal genio civile per 20 chilometri del fiume Verdura quindi a salire dal ponte verso Chiusa e questo progetto è già ormai finanziato e i lavori saranno consegnati a giorni mentre la parte iniziale quindi dal ponte fino alla foce se ne occupava la protezione civile quindi è servito in questi mesi coordinare i lavori tra il genio civile e la protezione civile in modo tale da evitare che i lavori si completassero per i primi 20 chilometri e poi diventasse una diga alla foce e invece siamo riusciti a contemplare tutto le autorizzazioni ormai sono state definite e alla firma del decreto dell'assessore Cordaro che ovviamente ho coinvolto pure e che mi ha confermato il tutto per cui adesso i lavori sia della parte di competenza del genio civile che quelli della foce inizieranno prima che arrivino le piogge stiamo parlando di un lavoro importante di oltre 6 milioni di euro già solo per il genio civile più la foce e quindi un lavoro che metterà serenità a tutto il comparto agricolo ai cittadini perché è vicina la strada per cui quando esonda il verdura i danni sono anche rischio vita e anche a un resort di lusso che per noi, per questo territorio è attrattivo di un turismo di qualità che porta economia L'onorevole Savarino ne approfitta poi per ricordare le altre grandi opere che interessano il comprensorio riberese la realizzazione dei nuovi alloggi popolari di Largo dei Martiri di Viafani la trasformazione del fratelli Parlapiano in Covid Hospital e la riqualificazione della piazzetta di Borgo Bonsignore sono per Giussi Savarino il segnale concreto dell'impegno profuso dal governo regionale in favore di questo versante della provincia di Agrigento Sono tanti gli impegni che nella mia commissione abbiamo seguito per questo territorio voglio ricordare anche le palazzine dello IACP che sono state dopo tanti anni finanziate anche lì per un contratto che i lavori sono in corso di 7 milioni con ribasso sono arrivati a 6 milioni stiamo parlando di 60 alloggi quindi un investimento importantissimo in provincia di Agrigento fatto proprio a Ribera per dare anche un segnale a un quartiere quello dell'Animelle dove adesso c'è stato insomma era arrivato a livello anche di degrado per non parlare da ultimo dell'ospedale di Ribera che le precedenti amministrazioni avevano già definito il percorso della chiusura oggi grazie ai fondi del decreto rilancio l'assessore Razza si è impegnato a farne un covid hospital e già la governanza dell'ASP ha spostato a Ribera il nostro reparto di malattie infettive che non è mai stato operativo ma che l'ASP di Agrigento aveva autorizzato in modo tale che si possa dare a quel presidio ospedaliero una dignità di servizi sanitari e questo devo dire è un impegno notevole che già dicevo in due anni e mezzo la città di Ribera sta avendo e che probabilmente attendeva da tanti anni Borgo Bonsignore è interessata ai lavori che già sono stati consegnati ed è un altro importante tassello in un'economia che deve puntare tutto sull'agricoltura e sul turismo come queste bellezze meritano si lavora per la ripresa della scuola a settembre con tutte le difficoltà legate alle regole regole dal rispettare fortunatamente arrivano i finanziamenti per l'adeguamento di spazi e aule il comune di Sciacca ha ottenuto 160 mila euro sentiamo 160 mila euro al comune di Sciacca per interventi nelle scuole il finanziamento arriva dal ministero dell'istruzione per interventi nelle scuole in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 il comune di Sciacca dice il sindaco Francesca Valenti aveva partecipato all'avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi ed ambienti scolastici di aule didattiche ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti in coerenza con le indicazioni del comitato tecnico-scientifico istituito con ordinanza del capo dipartimento della protezione civile il contributo è stato assegnato nell'ambito dei fondi strutturali europei programma operativo nazionale per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento che prevede interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità e anche il comune di Ribera cede ai fondi strutturali europei per la scuola l'importo del finanziamento ottenuto è di 90.000 euro c'è quest'altro servizio 90.000 euro per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi e delle aule scolastiche e quanto ha ottenuto il comune di Ribera nell'ambito dei fondi strutturali europei in collaborazione con gli istituti scolastici Crispi Don Bosco e Navarro il comune Crispino ha partecipato all'avviso del 26 giugno scorso per l'adeguamento dei locali in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid-19 e in vista della ripresa a settembre grazie al lavoro dell'ufficio tecnico comunale e alla collaborazione delle dirigenti scolastiche e dei loro responsabili tecnici per la sicurezza ha dichiarato questa mattina il sindaco Carmelo Pace si è potuto presentare un progetto nella prima finestra utile del bando il ministero dell'istruzione valutata alle istanze degli enti locali ha ora pubblicato una graduatoria dei comuni ammessi a finanziamento e il comune di Ribera è risultato beneficiario di 90 mila euro che grazie all'acquisto di attrezzature scolastiche permetterà di adeguare le aule e gli altri spazi scolastici alle nuove esigenze scaturite dall'emergenza covid-19 stiamo lavorando per consentire ad alunni insegnanti e operatori di iniziare il prossimo anno scolastico nella massima sicurezza e in locali adeguati ha commentato il sindaco pace che poi evidenzia come il comune di Ribera sia il risultato beneficiario di un ulteriore finanziamento per le verifiche sismiche dei solai delle nostre scuole proprio per tranquillizzare studenti genitori e personale scolastico è tutto pronto anche per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica grazie all'acquisto di una nuovissima sigillatrice e l'adeguamento alle norme antincendio si lavora anche alla ripresa a settembre dell'asilo nido comunale fiore all'occhiello della città che offre un servizio importante ed economicamente accessibile a tutte le famiglie l'edificio che ospita l'asilo nido nei mesi scorsi peraltro è stato beneficiario di un intervento di 80 mila euro con fondi comunali per lavori di messa in sicurezza ancora scuola approvate le linee guida in sicilia per il ritorno in sicurezza nelle scuole a partire dal 14 settembre prossimo il testo sarà pubblicato nelle prossime ore intanto l'assessore Roberto Lagalla anticipa che saranno rispettate le indicazioni del ministero riguardo il distanziamento sociale una continua gene degli ambienti l'individuazione di nuovi spazi per fare lezione come palestre o laboratori e l'organizzazione di turni differenziati sentiamo trovare nuovi spazi in cui svolgere le lezioni rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro creare turnazioni per evitare l'affollamento delle classi sono solo alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida approvate dall'apposita task force regionale creata ad hoc per permettere un ritorno a scuola in Sicilia in presenza e in sicurezza in linea con quanto anticipato in precedenza dopo l'emanazione del piano scuola approvato con decreto ministeriale lo scorso 26 giugno arriva adesso l'approvazione ufficiale delle linee guida regionali il testo sarà pubblicato nelle prossime ore sul sito dell'assessorato e verrà distribuito a tutte le istituzioni scolastiche e formative della regione siciliana oltre che ai comuni ai liberi consorsi e città metropolitane a comunicarlo è l'assessore regionale all'istruzione alla formazione professionale Roberto Lagalla che ha promosso l'istituzione della Tax Force secondo quanto anticipato da Lagalla toccherà ai dirigenti scolastici scegliere la soluzione migliore per evitare contemporaneamente troppi studenti negli istituti il piano prevede la possibilità di ridurre la lezione tipo da un'ora a 40 minuti in modo da concentrare in due fasce fra le 8 e le 16 la giornata degli studenti oppure i doppi turni nella versione tradizionale lì dove possibile è consigliato utilizzare spazi più ampi per poter svolgere le lezioni come palestre laboratori o atri ingressi e uscite saranno scaglionati per limitare le occasioni di assembramenti l'uso della mascherina è obbligatorio per tutti gli operatori scolastici nei luoghi comuni mentre per docenti e studenti al di sopra dei sei anni è obbligatorio durante le attività collegiali negli spazi comuni e durante i momenti di entrata e uscita dall'istituto gli studenti potranno entrare a scuola solo se con una temperatura corporea sotto i 37 gradi e mezzo a tal proposito verrà chiesta una sottoscrizione con le famiglie che dovranno impegnarsi a tenere a casa gli studenti che presentino difficoltà respiratorie in sorte negli ultimi giorni per il rientro a scuola dei nostri studenti scrive l'assessore Lagalla occorrerà grande collaborazione e partecipazione da parte di tutti delle famiglie in particolare perché non dovranno in alcun modo essere trascurate le opportune misure di contenimento del rischio da contagio e di prevenzione sanitaria da considerare fondamentali per la salvaguardia della salute degli alunni e del personale scolastico Alla luce di tutto questo conclude l'assessore sono certo che anche grazie al determinante intervento degli enti locali e dell'ufficio scolastico regionale insieme alla presenza vigile della regione siciliana sarà possibile gestire nel migliore dei modi il ritorno in aula E la Sicilia la regione più ambita per le vacanze e per le ferie post lockdown emerge dai dati delle prenotazioni per i mesi di luglio e di agosto 8 italiani su 10 trascorreranno periodi di riposo in Sicilia soprattutto nelle località balneari e culturali per il governatore Musumeci il dato è anche la testimonianza che l'isola viene percepita come sicura relativamente al post coronavirus c'è il servizio E la Sicilia la meta più ambita per le vacanze post lockdown 8 italiani su 10 hanno o stanno programmando le proprie ferie nell'isola per i mesi di luglio e di agosto lo rivela una ricerca di Airbnb secondo la quale nel 2020 la percentuale di quanti passeranno le vacanze in Sicilia è aumentata del 49% rispetto all'anno scorso tra i luoghi maggiormente presi d'assalto quelli balneari quelli che offrono dei siti culturali e i paesaggi dell'Etna sembra dunque che sia la Sicilia e le sue isole le eolie le egadi pantellerie e lampedusa le mete migliori per mettere in pratica il cosiddetto distanziamento fisico con la ricerca in particolar modo di case vacanze isolate e nei pressi delle spiagge non soltanto il turismo italiano ma anche quello autoctono con 6 siciliani su 10 che hanno preferito trascorrere le vacanze all'interno della Sicilia cambiando magari soltanto provincia tra i siciliani stanziali o fuori casa come i lavoratori o gli studenti fuori sede la maggioranza ha dichiarato che coglierà l'occasione per scoprire luoghi nascosti della propria terra il 39% mentre il 22% degli intervistati ha confessato che resterà comunque vicino a casa ottime recensioni anche sulla stampa internazionale che ha scelto la Sicilia per rilanciare il turismo straniero in Italia mettendo l'isola al centro di reportage pubblicati in tutto il mondo i turisti italiani cercano in Sicilia soprattutto cultura e bellezze naturali mentre i vacanzieri siciliani vanno alla ricerca soprattutto di sapori profumi ed esperienze autentiche soddisfatto per la notizia anche il governatore Nello Musumeci secondo il quale il dato è anche la testimonianza che l'isola viene percepita come sicura relativamente al post-coronavirus un fascino antico quello della Sicilia dato dalla sua storia ultramillenaria dalle sue incomparabili bellezze naturali ma anche dalla sua gente solitamente ospitale e generosa sempre più virtuoso il piccolo comune agrigentino di Calamonaci in merito alla raccolta differenziata tanto da essere insignito del premio per i comuni ricicloni all'interno della manifestazione che si svolgerà domani a Catania il premio viene assegnato ai comuni che superano oltre il 65% della raccolta differenziata il comune di Calamonaci ormai da diversi anni supera tale percentuale ad una raccolta differenziata porta a porta efficiente ha aggiunto recentemente l'iniziativa del netturbino di quartiere particolarmente apprezzata dalla cittadinanza adesso la rubrica il libro del giorno Mika Mortimer è un uomo molto abitudinario tecnico informatico si divide tra i computer e il condominio di Baltimora dove abita e lavora come tutto fare è pienamente soddisfatto della sua esistenza e della relazione con Cass anche questa ben incantata sui binari della routine le sue giornate si susseguono senza scossoni la corsa del mattino seguita da doccia colazione e pulizie di casa il pranzo gli incontri con i clienti che lo chiamano per una consulenza e le serate a volte con Cass a volte da solo ma un giorno alla sua porta si presenta Brink il figlio adolescente di Lorna con cui Mika aveva avuto una storia al college il ragazzo dopo un passo falso a scuola e in crisi con la famiglia ha deciso di rintracciare Mika convinto che tra loro possa esserci un legame e di chiedergli ospitalità questa visita inaspettata obbliga Mika a riconsiderare il suo passato e a guardare con altri occhi tutto quello che fino ad allora aveva dato per scontato facendogli capire cosa conta davvero e come averne cura perché a volte abbandonare il conforto rassicurante delle abitudini può aprire la strada ad una vita più autentica un ragazzo sulla soglia Diane Tyler edito Guanda e a proposito di libri in uscita la nuova pubblicazione del Saccense Vito Lipari dal titolo Noscete Ipsum Lipari docente universitario e studioso di simbologia e scienze esoteriche racconta nel suo ultimo libro una storia umana che attraverso le vicende di alcuni giovani universitari costretti troppo presto a confrontarsi con forze più grandi di loro vuole evidenziare il mutare nel tempo di tutto ciò che contribuisce a rendere l'uomo se stesso una volta inseriti nel mondo del lavoro i protagonisti finiscono con non riconoscersi più la loro storia spiega l'autore può essere la storia di tutti ma prende una piega tragica e inevitabile e con questa notizia concludiamo il nostro telegiornale grazie per la vostra attenzione appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti